Mino Cannito resta sindaco di Barletta e revoca le dimissioni e l'annuncio in conferenza stampa e con l'azzurro Marcello la notte fuori dal perimetro della maggioranza. Intanto i denbaresi confermano la linea a sinistra e ribadiscono la richiesta di azzeramento dei nomi sulle comunali. Ho avuto una settimana particolare, sono stato in ospedale, mio marito mi ha alzato le mani e l'audio che confermerebbe la violenza subita da Vincenzo Angrisano qualche giorno prima di essere ammazzata ad Andria. In mattinata l'autopsia intanto spunta un contratto di affitto firmato dalla 42N. Dopo la tappa di Verona arriva a Bari il tour itinerante all'insegna dello sport, un campione in famiglia, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e poi Adriano Paratta che ha raccontato tutti i segreti del tennis. Bentornati in diretta con l'appuntamento con l'informazione delle province di Bari, Batte e Foggia. In primo piano la politica dalla Bat con l'archiviazione della crisi politica a Barretta. Milo Acannito resta sindaco, revoca le dimissioni, l'annuncio arriva in conferenza stampa ma con un'altra novità, il presidente del Consiglio Comunale Lazzurro Marcello Lanotte al momento fuori dal perimetro della maggioranza. Sentiamo. Comunico che il presidente del Consiglio Comunale, avvocato Marcello Lanotte, in quanto consigliere comunale, non è più facente parte della maggioranza attualmente al governo della città. Il sindaco di Barletta, Cosimo Cagnito, fermo ed apparentemente sereno nella sua stanza a Palazzo di Città, ha letto alla stampa schierata dinanzi alla sua scrivania una lettera con cui ha comunicato le variazioni della sua giunta. Nelle scorse ore il primo cittadino aveva ritirato le dimissioni ma aveva ugualmente convocato una conferenza stampa per comunicare variazioni, aveva spiegato. Ci si aspettava la nuova nomina Giuseppe Dalba, in sostituzione a Pierpaolo Grimaldi, ormai ex assessore all'urbanistica, dimesso a seguito del Consiglio del 24 novembre scorso che aveva portato alle dimissioni dello stesso sindaco. Il problema sembrava riguardare il piano di interventi inerenti alla zona 167. Invece colpo di scena ad essere fuori è Marcello Lanotte, presidente del Consiglio in testa a Forza Italia nella città della disfida, dove pare per vocazione storica non possono mancare contenziosi. Ed ecco quindi che la maggioranza si spacca definitivamente con il sindaco che ha scelto di stare su una zolla, sull'altra, Marcello Lanotte. Il primo cittadino non ha voluto rispondere alle domande della stampa ma ha ugualmente motivato la sua decisione. Questi conflitti sono stati sostenuti ed alimentati dal presidente del Consiglio Comunale, avvocato Marcello Lanotte, con la precisa volontà di creare fibrillazioni nella maggioranza e il tentativo di accordo con esponenti regionali con l'offerta della mia testa politica e far cadere l'amministrazione. Cosimo Canito dunque resta in piedi con la testa in cima alle sue spalle ma una parte del suo esercito sta affilando le armi. Io questa città la amo e mi impegnerò fino alla morte per questa città. Un'accusa durissima dunque, sferrata all'indirizzo del presidente del Consiglio che dunque ora dovrà decidere se mantenere l'incarico, se farlo con una parte del gruppo degli azzurri o meno. Intanto ci spostiamo a Bari perché i DEM confermano la linea dell'ultima assemblea in vista delle prossime comunali. Il centrosinistra è ancora senza alfiere. La richiesta è azzeriamo le proposte di nome. Noi siamo convinti che si debba raggiungere un obiettivo assolutamente utile a tutta la coalizione o almeno a chi si vuole riconoscere nella coalizione e cioè un soggetto di garanzia unitaria che possa rappresentare tutte le anime ovviamente al meglio. Il PD pugliese e barese conferma la linea sulle comunali 2024 all'ombra di San Nicola anche l'ultimo vertice interno delle scorse ore non cambia direzione mantiene invece l'orientamento dell'ultima assemblea cittadina insomma azzeramento interno ma pure esterno che l'area sinistra della convenzione per Bari ha già rispedito al mittente puntando tutto sul penalista ed ex presidente della giusta causa Michele Laforgia. Il partito ha sacrificato il metodo delle primarie e messo in stand by unitariamente le proprie autorevoli candidature per consentire alla coalizione un lavoro più sereno mettendo al centro l'unità fanno sapere i big dopo un vertice ristretto aggiungendo che nei prossimi giorni continueranno le interlocuzioni è possibile che siano proprio i dem a proporre agli alleati un quinto nome magari quello dello Scerpa, Vito Leccese ma non è detto che basti, per ora resta il muro contro un muro. È un atto di grande responsabilità e anche di sicurezza perché noi con la forza non abbiamo mai ottenuto nessun risultato con la condivisione sì e col senso di responsabilità credo che sia stata la dimostrazione ancora una volta del grande senso di responsabilità del Partito Democratico che è un partito solido, coeso, forte e che sicuramente ha anche a seguito dell'ultimo congresso rivitalizzato tutte le sue anime all'interno. E chiudiamo la pagina politica con le provinciali della BAT e la sfida per la presidenza dell'ente. Bernardo Lodispoto e Michele Patruno si sfidano per la carica di presidente della provincia BAT i sindaci di Margherita di Savoia e Spinazzola concorrono per lo scranno più alto della sesta provincia pugliese con le elezioni che si terranno nella sola giornata di domenica 3 dicembre a poter votare saranno i sindaci e i consiglieri comunali delle 10 città della BAT oltre ai tre capoluoghi Barletta, Andri e Trani e ai comuni dei due candidati Margherita di Savoia e Spinazzola sono chiamate alle urne anche San Ferdinando, Trinitapoli, Biceglie, Canosa e Minervino Murghe le votazioni si svolgeranno dalle 8 alle 20 presso gli uffici della sesta provincia pugliese presso la sede dell'ex università LUM a Trani con lo spoglio che verrà effettuato subito dopo la chiusura del voto l'ho disposto appunto a riconfermare il suo ruolo di presidente con l'appoggio di un blocco di centrosinistra dall'altra parte patruno, espressione del centrodestra chiamato ad avviare un nuovo ciclo politico Cambiamo pagina alla cronaca con il femminicidio ad Andria di Enza Angrisano la novità è che non solo queste sono le ore dell'autopsia ma nel frattempo spunta un contratto di affitto intestato alla 42enne Enza Angrisano, la sera in cui è stata uccisa a coltellate da suo marito aveva firmato un contratto di locazione l'intenzione era quella di separarsi definitivamente dall'uomo che 5 giorni prima l'aveva picchiata perché non accettava la rottura del loro rapporto il 20 dicembre prossimo si sarebbe trasferita in un appartamento nel centro abitato di Andria lontano dal vecchio casolare in cui viveva con il 51enne e i suoi due figli la stessa abitazione in cui è morta a coltellata l'aggravante della premeditazione si consolida sempre di più attraverso gli elementi che emergono facendo luce sugli ultimi giorni di vita di Enza purtroppo ho avuto una settimana molto particolare dove sono andata in ospedale, dove mio marito mi ha alzato le mani veramente non ero nei tempi nel venire da te perché facevo casa di mia madre, casa mia, giravo per strada cercavo di stare quanto più lontano da casa mia e il contenuto di un audio che Enza Angrisano ha inviato ad un'amica e collega su Whatsapp prima che il 28 novembre suo marito Luigi Leonetti le sferrasse tre coltellate al petto e al torace delitto passionale è ciò che emergerebbe anche dalle dichiarazioni rilasciate dal 51enne Leonetti dinanzi al GIP a Anna Lucia Altamura durante l'interrogatorio di garanzia di tutto ciò pare che la famiglia non fosse a conoscenza ora l'attenzione dei parenti è rivolta ai figli della vittima è stata organizzata una raccolta fondi attraverso un Ivan intestato a Maria Angrisano sorella di Enza che al momento ha in custodia i figli della coppia il PM della procura di Trani Francesco Chiechi ha disposto l'autopsia sul corpo della 42enne l'incarico è stato conferito al dottor Francesco Vinci dell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari i funerali di Vincenza Angrisano potrebbero celebrarsi lunedì 4 dicembre ad Andre una brevissima un agricoltore 65enne morto schiacciato dal trattore che stava guidando nelle campagne incontrata a Forcone Grillo a Cerignola in provincia di Foggia in un terreno di sua proprietà l'incidente è avvenuto ieri sera l'uomo era originario di Stornarella a quanto si apprende per cause da accertare il trattore si sarebbe ribaltato a chiamare ai soccorsi un parente dell'uomo che non vedendolo rientrare in casa è andato in campagna a cercarlo i carabinieri indagano per stabilire la dinamica esatta dell'incidente e restiamo in capitanata in ricordo di Michele Cianci vittima innocente della mafia cerignolana ucciso la sera del 2 dicembre 1991 una giornata ricca di eventi e di momenti di riflessione per ricordare Michele Cianci vittima innocente della mafia cerignolana ucciso la sera del 2 dicembre 1991 per essersi opposto ad un tentativo di rapina nel suo negozio la cooperativa sociale Alter Eco impegnata nella gestione di due beni confiscati alla mafia in rete con la famiglia del giovane commerciante assassinato ha organizzato l'appuntamento Io non dimentico sviluppato in due momenti che testimoniano l'importanza di fare memoria viva delle vittime innocenti delle mafie attraverso azioni concrete e condivise di antimafia sociale prima l'inaugurazione su Terra Out Cerignola del punto vendita 109,96 che sin dal nome vuole raccontare l'importanza e l'efficacia della legge 109,96 la normativa che consente la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratte alle organizzazioni criminali subito dopo l'esposizione per la prima volta al pubblico del murales dal titolo Custodi dell'artista Lorenzo Tomacelli un'opera a cielo aperto che racconta l'amore e la cura dei frutti della terra come esperienza educativa che deve continuare per sempre in un ciclo continuo di scambio tra vecchie e nuove generazioni questo è Terra Out, un bene confiscato alla mafia che gestiamo da 12 anni ormai oggi è un giorno importante per noi perché apriamo ufficialmente alla cittadinanza la bottega dei prodotti etici all'interno ci sono tutti i prodotti che produciamo noi sul bene confiscato Terra Out e Michele Cianci ma lo facciamo in una data importante il 2 dicembre ricordiamo Michele Cianci una vittima di mafia di Cerignola e appunto oggi è l'anniversario della sua scomparsa quindi lo facciamo appositamente perché ci piace fare memoria di avvenimenti importanti ma soprattutto di persone che per noi rappresentano dei punti fermi nel nostro percorso Trauto in Fiamme la scorsa notte a Trinitapoli Ancora un atto intimidatorio scuote la notte di Trinitapoli intorno al 1.30 tra venerdì e sabato tre auto sono state incendiate nel comune della Bat i tre episodi sono avvenuti nell'arco di appena 50 metri un particolare che sta avendo un ruolo preponderante nelle indagini delle forze dell'ordine le tre vetture parcheggiate nella zona residenziale di Via Pardo hanno creato diversi danni agli edifici adiacenti con le fiamme che hanno colpito anche le facciate delle palazzine circostanti non risultano feriti soltanto un grande spavento per i residenti del quartiere sul posto una squadra di soccorso dei vigili del fuoco di Barletta che ha domato il rogo nei minuti successivi ancora da accertare la dinamica dei tre incendi con le forze dell'ordine che stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza resta la grande preoccupazione dei cittadini di Trinitapoli Ammontano invece a 420 mila euro i ricavi nascosti al fisco da un commercialista di San Giovanni Rotondo lo ha scoperto la guardia di finanza di Manfredonia il professionista è stato segnalato all'agenzia delle entrate i finanzieri hanno individuato alcune anomalie nelle dichiarazioni dei redditi del professionista e attraverso gli approfondimenti dall'incrocio dei dati dichiarati con quelli risultanti i documenti contabili sono emersi l'omessa contabilizzazione di compensi per oltre 420 mila euro cambiamo pagina a Foggia c'è una scuola dove da oggi le piante saranno compagne di viaggio degli studenti Donare amore all'ambiente e in particolare alle piante aiuta a vivere meglio ma soprattutto migliora le proprie prestazioni ne sono particolarmente convinti i docenti all'unni del plesso scolastico San Lorenzo di Foggia dove nell'ambito del progetto Clorotici nelle scorse ore è stata inaugurata una Botanic Zone interna che si aggiunge ad un'area outdoor grazie alle quali le piante entreranno concretamente nel percorso formativo degli studenti cambiando definitivamente la configurazione classica dell'ambiente scolastico coeducatore spesso sottovalutato nella pratica didattica e dunque la Botanic Zone ci aiuta ad ampliare prima di tutto i nostri spazi educativi così da rendere e offrire una didattica più dinamica che possa incuriosire maggiormente i bambini e allo stesso tempo insegnargli che cosa vuol dire prendersi cura il prendersi cura per noi è un'azione importantissima che cerchiamo tutti i giorni di trasmettere ai nostri alunni così come all'interno anche all'esterno è stata allestita invece l'outdoor area che è appunto di incontro dove gli spazi interni escono all'esterno e l'esterno viene dentro appunto e lì dopo essersi presi cura delle piante averci anche parlato semmai se quel giorno non hanno bisogno di acqua di nutrimento andare fuori e fare lezione insieme al verde di cui che c'è nel presso San Lorenzo di cui insomma godiamo tutte le mattine A Trani invece storia e digitale a braccetto nel centro antico Appunti che consentono non soltanto agli stranieri che ovviamente visitano la nostra città teso che questa cartellonistica ha la relativa traduzione in inglese ma soprattutto appunti per i nostri cittadini Storia e tecnologia a Trani camminano sotto braccio tra le strade del centro storico Si chiama Trani città in tasca l'opera di riqualificazione della cartellonistica turistica nel centro della città con l'obiettivo di valorizzare il ricco patrimonio artistico e di raccontare la storia di Trani Questi progetti che sono soltanto all'inizio perché ovviamente integreremo tutta questa cartellonistica devono rendere i cittadini consapevoli del patrimonio che abbiamo La nuova cartellonistica rappresenta un'evoluzione nell'ambito turistico e comunicativo perché è dotata di pannelli con tecnologia QR code che consentirà al visitatore e ai cittadini tranesi di accedere con il proprio smartphone nelle varie schede informative del patrimonio culturale della città Ci sono cinque cartelli posti nella zona Sveva che è appunto questa nella zona Castello Porto nella zona Antica è ovviamente la Giudecca Abbiamo fatto realizzare un cartello che illustra la storia degli statuti marittimi Casa di Agniete che forse è la testimonianza architettonica più antica della nostra città è stata costruita intorno al 1200 Le schede sono oltretutto visualizzabili sul portale Trani Città in Tasca in cui sono presenti gallerie fotografiche, video e informazioni utili anche con indicazioni stradali per assistere l'utente durante gli spostamenti in città Non è proprio una biografia ma è un racconto tragicomico di fatti realmente accaduti dietro le quinte delle maggiori kermesse culturali italiane si chiama Per chi suona la cultura ed è il nuovo libro del direttore artistico del Mifest Felice Laudadio Non proprio è una spudorata autobiografia ma lo diventa narrando cronache tragicomiche di avventure culturali vissute e combattute in prima persona anche dietro le quinte affollate da grandi talenti del teatro, del cinema, della televisione e da meno grandi esponenti della politica e della burocrazia Si intitola Per chi suona la cultura avventure tragicomiche di un organizzatore il nuovo volume del direttore artistico del Mifest Felice Laudadio che torna a scrivere per raccontare tutto ciò che c'è dietro l'organizzazione di una kermesse un vero e proprio viaggio compiuto in 45 anni da Laudadio attraversando il percorso di una dozzina di esperienze vissute fra enti ed eventi incluse storiche istituzioni del cinema pubblico del nostro paese e soprattutto alcuni dei più importanti festival cinematografici italiani Laudadio infatti è stato anche numero uno del Festival del Cinema di Venezia per poi passare alla direzione della primissima Puglia Film Commission e successivamente del Bar International Film & TV Festival giunto quest'anno alla 14esima edizione un'edizione che a quanto dichiarato dallo stesso Laudadio alla fine della scorsa edizione sarebbe in forze proprio per una grave carenza di fondi disponibili Il fatto di ridurci sempre all'ultimo minuto e questa volta davvero all'ultimissimo minuto per avere sicurezza delle date dei dati anzi, dei dati economici per poterlo realizzare noi abbiamo lavorato da aprile in poi senza paracadute Ed è invece il bestiario il tema dell'edizione 2024 del TEDx di Bari torna dopo 5 anni appuntamento a gennaio nel Teatro Piccini primo ospite svelato il giornalista britannico Caspar Anderson A Bari, questo evento torna per la quinta volta l'ultima volta è stata nel 2019 ci siamo dovuti firmare per la pandemia e quindi il 21 gennaio del 2024 ci sarà la nuova edizione TEDx Bari al Teatro Piccini E il bestiario è il tema dell'edizione 2024 del TEDx Bari che torna dopo 5 anni a gennaio nel Teatro Piccini del Capoluogo alla prima dopo il Margherita e il Petruzzelli la tradizione è quella statunitense il format quello che unisce sin dagli anni 90 tecnologia, intrattenimento e design dalla robotica al sociale l'idea del bestiario invece spiegano gli organizzatori arriva dalla visione di un catalogo di cose fuori dal comune o del tutto ordinarie ma rispetto alle quali si senta l'urgenza di uno sguardo nuovo due punti di partenza per interrogare temi come l'intelligenza artificiale le crisi climatiche e umanitarie il futuro del lavoro quello del cibo tra i primi nomi annunciati quello dello scrittore e giornalista britannico Caspar Anderson quello di Brunanza dottoramden in ingegneria chimica al Politecnico di Torino e quello della giornalista Elena Testi come incubatore siamo davvero contenti di patrocinare questa iniziativa che credo aiuti ad allargare gli orizzonti e le prospettive offrendoci quella capacità di pensiero critico e di analizzare i problemi da prospettive differenti che è sempre ormai una competenza sempre più necessaria in un contesto di crescente complessità dopo la tappa di Verona a Bari il tour itinerante all'insegna dello sport un campione in famiglia tre azzurri testimoni al decisione lo sport come scuola di vita dopo la tappa di Verona arriva a Bari la carovana di un campione in famiglia tour itinerante all'insegna dello sport promosso da Cattolica in via Lenaudi davanti all'ingresso di Parco 2 Giugno il villaggio sportivo dotato di un minicampo da calcio e un minicampo di pallavolo che ha ospitato i testimoni Alciccio Graziani e Andrea Lucchetta che hanno coinvolto i presenti in gare e partite e poi Adriano Panatta che ha raccontato tutti i segreti del tennis lo sport è vita e inclusione è condividere lo sport è di impare le regole cresci bene e quindi chiunque deve fare sport da piccoli ai grandi il movimento è meraviglioso ti tiene in salute ti aiuta a stare bene poi dopo con i bimbi chiaramente è tutta un'altra cosa ci si diverte con i bimbi i bimbi ti regalano un sorriso il campione in famiglia sono il papà e la mamma i campioni in famiglia e questo evento che facciamo noi è per creare un sentimento di aggregazione la gente comune che è quello di divertirsi attraverso due campioni il terzo che sono io gli altri due sono dei nonni per cui un nonno in famiglia potrebbe essere una nuova forma da portare avanti poi dopo c'è il vero bambino che fa giocare i bambini Restiamo a Bari restiamo a parlare di sport che fa rima con inclusione vediamo come Si chiama Insieme Possiamo e il plurale non è soltanto quello dei giovani imprenditori di confindustria Bari e Bat di Ance ma anche quello di uno sport day organizzato nel liceo scientifico sportivo cittadella della formazione insomma l'ex istituto di Cagno a Brescia di Bari con il distretto Rotaracti di Puglia e Basilicata obiettivo sostenere il Lido Io Posso di San Foca l'unico oltre a essere il primo in tutta Italia a permettere l'accesso sicuro e gratuito per coloro che abbiano malattie altamente invalidanti tennis, padel, beach volley o calcio balilla è una quota di partecipazione interamente dedicata al progetto e con qualunque punteggio vince la solidarietà abbiamo deciso di sostenere il progetto portato avanti dal Rotaract Puglia Basilicata per sostenere la spiaggia di San Foca che è l'unica in Italia a dare la possibilità di accesso gratuito e anche attrezzato per quanto riguarda persone con disabilità altamente invalidanti e quindi noi che siamo sempre molto attenti al territorio ci abbiamo tenuto a far sentire che noi siamo vicini e stiamo finanziando insieme a Rotaract questo bellissimo Lido ringrazio Confindustria per aver supportato la nostra iniziativa Insieme Possiamo Insieme Possiamo è un progetto del distretto Rotaract 21-20 che ha vinto uno dei più prestigiosi riconoscimenti della Rotary Foundation il Global Grant e sostiene Io Posso che è un'associazione salentina che è stata la prima in Italia ad aprire un Lido per rendere accessibile le spiagge a malati con disabilità gravi come SLA o patologie molto rare E in chiusura agli eventi Fasano-Ostuni-Locorotondo dal 7 dicembre al 6 gennaio si accendono con la terza edizione di Musica Lucis Torna Musica Lucis, il festival d'inverno che unisce musica, arte, territorio e intrattenimento nella Valle d'Itria e per la prima volta quest'anno la rassegna larga i propri orizzonti accogliendo ospiti internazionali cogliendo il pretesto del periodo natalizio per dar vita a momenti di festa all'aperto un mese di appuntamenti gratuiti tra Fasano-Locorotondo e per la prima volta anche Ostuni che accenderà le festività pugliesi dal 7 dicembre al 6 gennaio fra DJ7 e installazioni artistiche da tutta Italia un cartellone, quello della terza edizione del Musica Lucis con una line-up musicale selezionata dalla direttrice artistica Veronica Palmisano e Nicaleo composto non solo da artisti pugliesi italiani ma anche ospiti internazionali come General Levi il 16 dicembre a Ostuni primo MC del Regno Unito e poi maledetta discoteca il 7 dicembre a Locorotondo collettivo che arriva da Roma per un DJ Z a cavallo tra gli anni 70 e 80 tra disco, italo-disco, funky, boogie con DJ e vinili direttamente su una Fiat Panda Sono tre progetti che vanno un po' a scardinare la visione tradizionale del Natale attraverso i suoi simboli più importanti quali l'albero di Natale, la tavola imbandita e i balconi a voi capire chi è associato a tutti i progetti Quest'anno abbiamo veramente il piacere di ospitare General Levi Esa, Tormento, Luca De Gennaro, Populus ci sono veramente tantissimi artisti e siamo felicissimi della line-up di quest'anno E tutto, ci fermiamo, grazie per essere stati con noi Arrivederci Rimani connesso Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR Code la nuova app di Antenna Sud Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo Grazie a tutti Grazie a tutti